in questo tutorial vedremo come creare le partizioni su un hard disk nuovo quando comprate un hard disk per il vostro computer un hard disk interno lo collegate al computer non si mette ad andare così automaticamente ma partizionato ovvero va create due fette tre o anche una sola grande e va formattata va creato il file system è abbastanza semplice vediamo come fare windows 10 ha già il programma per poterlo fare il software andiamo qua scriviamo pannello di controllo eccolo qua pannello di controllo ecco mi raccomando se qua avete la visualizzazione qua in questo punto per categoria vi consiglio di scegliere icone grandi a questo punto dobbiamo cercare questo strumenti di amministrazione poi gestione computer si aprirà questo programma che ci permette di fare tante cose noi andremo quello che cerchiamo è gestione disco a questo punto lui fa un'analisi del computer e ci mostra i dischi che abbiamo questo disco 1 ad esempio il disco dove ho c dove ho il sistema operativo è un'altra fetta da 600 mega questo è un hard disk da un terabyte da 1000 mega dove tengo i dati file dove stanno i giochi questo qua è quello nuovo infatti vedete da 80 giga è un hard disk in realtà non è nuovo in ho preso uno vecchio per farci degli esperimenti vedete che ci dice non allocata infatti se noi andiamo qua sulle risorse del computer guardate un po abbiamo vediamoci questi lasciamo listare che sono elettore di smart card abbiamo c che questo da 350 giga e questo i che l'altra fetta sono due fette dello stesso hard disk ok queste sono partizioni di sistema non fateci caso insomma mentre non vediamo qua il nostro disco da 80 giga proprio perché non c'è la partizione è semplicissimo proviamo a crearne una intera ci clicchiamo sopra facciamo un nuovo volume semplice ci ho cliccato col tasto destro è avanti lascio la dimensione massima avanti qua ci dice assegna questa lettera unità possiamo scegliere che lettera assegnare l'hard disk proviamo a mettere t avanti ancora ok qua formatta questo volume con le seguenti impostazioni lasciamo ntfs l'etichetta lo chiamiamo disco 80 gb ad esempio e lasciamo su esegui formattazione veloce non vi consiglio di attivare invece la compressione dei file cartelle perché diventa più lento il processo di lettura e scrittura avanti fine lui lo sta creando e formattato ok è pronto infatti windows l'ha rilevato se torniamo sulle source del computer vedete che abbiamo un disco da 80 giga ovvero una partizione unica che occupa tutto lo spazio del nostro disco da adesso in poi il disco è utilizzabile ok molto molto semplice se il video ti è piaciuto metti un like iscriviti attivando la campanellina per restare aggiornato sui miei video ciao